Buongiorno a tutti e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, sono le 7.30 siamo in diretta sul canale 17 per le notizie che sono pubblicate sui tre quotidiani il resto del Carlino, il Corriere Adriatico ed il Messaggero, lo vedremo e le vedremo tra poco, tra un istante prima guardiamo il tempo che fa, anzi il santo poi il tempo, oggi la chiesa ricorda il beato Marcello Spinola il sole è sorto alle 7.37 e tramonterà alle 5 del pomeriggio dicevo il tempo previsto per la giornata di oggi è domani, il tempo per oggi sarà parzialmente nuvoloso per nubi alte stratificate con locali intensificazioni, le temperature sono in lieve diminuzione i venti deboli nord-occidentali moderati lungo la fascia costiera, il mare sarà mosso possibili foschie o locali banchi di nebbia durante le ore più fredde della giornata per domani 20 di gennaio avremo cielo nuvoloso a tratti molto nuvoloso con precipitazioni che non si escludono anche se deboli ed isolate come vedete nell'urbinate nel Monte Feltro temperature senza variazioni di rilievo, i venti deboli dai quadranti settentrionali il mare sarà mosso, fenomeni particolari non vengono segnalati quindi insomma non ci saranno le foschie in particolare vediamo invece adesso la temperatura attuale alle 7.30, 7.29, registrata alle 7.29 a Fano 2.2 gradi, umidità 89%, non c'è vento vedete quindi continuano le giornate senza pioggia la webcam, vediamola, ecco questa è quella che è puntata sopra la nostra, sopra la serie di Fano TV punta verso nord-est come dicevamo e questa è la fotografia vedete un cielo assolutamente terzo, sgombero dalle nuvole praticamente allora cominciamo con la cronaca Mauro Angelini, Mauro Angelini muore mentre si allena un devastante infarto sulla pista di atletica inutili i soccorsi all'ex professore a lato due immagini di Mauro Angelini durante le competizioni che era solito affrontare con grande scrupolo e preparazione scrive il giornale, oggi faranno forse l'autopsia per acclarare le cause del decesso se ne è andato su una pista di atletica che è stata la sua grande passione della sua vita Mauro Angelini aveva 69 anni ancora da compiere insegnante da poco in pensione, atleta e allenatore campiano italiano master di categoria nel Decathlon è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo sabato mattina al termine dell'allenamento che come al solito quotidianamente svolgeva sulla pista di atletica Zengarini della Trave un altro brutto fatto di cronaca invece da Colombarone dove un ragazzino di 16 anni, Niccolò, è stato travolto da un'auto guidata da un 85enne di Fano il giornale scrive che lo schianto appunto avvenuto da Colombarone è stato drammatico, il ragazzino travolto da questa Opel guidata da quest'anziano che ha invaso la corsia gioca negli Juniores, questo sedicenne Juniores del Gabici, andava a vedere probabilmente la partita della prima squadra purtroppo a un certo punto non ha potuto evitare l'impatto con questa Opel che lo ricordiamo ha invaso la corsia opposta coinvolte quattro auto, anche quella della polizia stradale di Fano scrive il resto del Carlino che quindi poi ha proceduto ai rilievi di legge la politica invece, Giovannelli è troppo supponente Ceriscioli torna in ballo per il ticket il coordinatore Nobili dice e pensare che noi l'abbiamo sempre difeso ieri mattina ad Ancona si è parlato anche del tandem tra l'ex sindaco e l'assessore archiviata in fretta l'epoca Comi un segretario regionale inadeguato il PD pesarese dovrà decidere chi è il suo vero candidato per le primarie vice segretario o senatrice i ladri in casa e lei guarda la tv lui invece dorme il colpo in via Lucio Accio a Pesaro altri colpi in via Gorizia e in questo articolo si racconta più o meno un'altra di quelle giornate ormai tipo dove i ladri continuano imperterriti il loro saccheggio rubava vestiti all'ipercop Trento Tenne arrestato sarà espulso è successo sabato oggi si svolgerà il processo per direttissima l'arresto invece di un pesarese a Senigallia in seguimento da film incidente e manette dopo l'urto scoppiano due gomme allora lui tenta la fuga a piedi poi il calcio il calcio due pagine il resto del calino dedica alla partita partitissima anzi di ieri al Mancini di Fano valevole per il campionato di serie D una partita bella purtroppo rovinata da un arbitraggio assolutamente inadeguato furori, rigori, portieri lo scontro finisce pari al Mancini succede tutto tranne il gol la capolista fallisce due rigori e rischia di andare sotto risultato finale 0-0 ma non mancano le emozioni che potrete vedere questa sera dopo il telegiornale con la teleconica di Sergio Catalani Gabellini, il patron presidente del Fano dice furioso non accetto un arbitraggio così 3.000 persone 3.500 se non ricordo male hanno visto coi propri occhi quello che è successo ha detto Gabellini e l'altra pagina del resto del Carlino vedete anche le fotografie di questa curva come non la vedevamo da tantissimo tempo la curva del Fano con questa coreografia bellissima poi stasera il movimento sarà ancora più bella Ginestra invece il portiere del Fano allo sguardo ipnotico ha parato anzi uno l'ha parato l'altro poi in realtà l'altro giocatore l'ha sbagliata comunque Borrelli sempre in partita Carpineta attivo Lunardini ingenuo poi sotto anche la curva riservata ai tifosi della maceratese qui stanno esponendo un cartellone uno striscione che probabilmente per una persona che non c'è più forse probabilmente un tifoso un anno senza poi il nome mai dimenticato sempre sempre qui troverete le pagelle poi anche quello che ha dichiarato Peppe Maggi che è l'allenatore della maceratese dovevamo essere più forti dice delle emozioni apriamo il Corriere di Pesaro una rete di mercatini a chilometri zero nuovo regolamento per la vendita diretta dei prodotti agricoli spazi definiti per sei o dieci aziende sotto sempre nella pagina di Pesaro l'orchestra sinfonica Rossini a Davos si esibisce insieme ad Andrea Bocelli lo spettacolo è domani in occasione del forum economico mondiale a Fossombrone al palazzetto dello sport c'è il defibrillatore donato dall'associazione Un Cuore per Amico che ha istruito i tesserati è stata avviata una raccolta di fondi anche presso i genitori degli atleti per finanziare manutenzione e controlli e sempre da Fossombrone le cesane abbandonate hanno bisogno di cura appello del generale Luigi Chiavarelli che scrive una lettera per percorsi e aree di sosta lancia questo appello questo generale in pensione che è anche consigliere consigliere comunale da mesi la strada che va ad Urbino nel tratto Canavaccio Bivio Borzaga è ristretta per una frana c'è quel semaforo che sta ancora lì che crea disagi eccetera qui verrebbe da dire di tutto o di più ma forse è il caso di far finta di niente e aspettare che qualcuno prenda provvedimenti trovi due soldi per sistemare quel pezzettino di strada stiamo parlando di 10 metri di strada il Vescovo in piazza benedice a Fano Cani e Cavalli affollato appuntamento per Sant'Antonio il saluto del sindaco dopo l'incontro col metropolita ortodosso l'Italia sul carro è come il paese di Alice c'è l'omaggio a Hermes Valentini noto storico carrista e svetta Seri come comandante romano contro i problemi di oggi gran fermento nei capannoni dove si creano le grandi allegorie a 13 giorni dalla prima sfilata i maestri sono arrivati alla tinteggiatura delle loro opere al lavoro anche stagisti dell'istituto a Polloni si allena nella corsa e muore di infarto Mauro Angelini 69 anni ucciso da un malore alla pista Zengarini disposta l'autopsia e poi guardate e leggiamo insieme soltanto poche righe di questo articolo aggredito all'improvviso con una testata sul naso è successo al Lido di Fano intorno alle 3 di notte 3 della mattina tra sabato e domenica improvvisamente una persona si è avvicinata ad un ragazzo sconosciuto senza dire una parola senza un motivo apparente lo ha aggredito col pendolo con una testata al volto da Pesaro primarie il messaggero Marco Lini in pista Lala Carrescia Moratti Lucchetti lo candida sono disponibili al battesimo democratico la Fabri sta per annunciare il sostegno a Ceriscioli grandi elettori il PD proporrà Ricci opposizione pronta Pesaro opposizione pronta la sfiducia su Rodari i gruppi di minoranza contro l'assessore pesarese intanto rimerge il caso nomine alle partecipate mentre a centropagine vedete la foto della curva del Fano show al Mancini il Fano è furioso tre esplosioni due rigori contro non bastavano per fiaccare il Fano il big match contro la Maceratese finisce 0-0 buon pareggio della Vis Pesaro a Civitanova si tra l'altro è vero è stato espulso anche il secondo allenatore perché il primo Alessandrini già era stato espulso domenica scorsa quindi per mezzo per 30 minuti circa del secondo tempo la panchina è stata completamente sguarnita anche se poi c'era Alessandrini aggrappato alla ringhiera vicino agli spogliatoi che dava qualche indicazione insomma laddove è possibile ma poi hanno espulso due giocatori l'ultimo addirittura alla fine della partita quando ormai era stato fischiato il triplice fisco insomma il ricordo del grande Tonino è sempre vivo inaugurato ieri il cipo del fan club 400 tifosi da tutta Italia vecchie glorie e il DG Comi direttore generale andiamo sull'ultima pagina del messaggero scuola costruita in 72 giorni Ucchielli invita Matteo Renzi il sindaco scrive al premio per l'inaugurazione inaugurazione il comitato invece fan unita dalla padella dicono alla braccia scuole tasse servizi tanti problemi aperti dopo il passaggio sotto l'amministrazione del comune di Mondolfo a Fano la destra accoglie l'invito ad allearsi con Forza Italia Udc su commercio e centro storico un solo assessore per ridurre i costi movimento a 5 stelle contro il PD solite manovre per le poltrone minori con disabilità sensoriali il servizio sarà ripristinato è tutto grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa vi ricordo questa sera alle 20 e 30 il nostro telegiornale Occhio alla Notizia e subito dopo come dicevamo l'incontro Fano Maceratese grazie e buona giornata a tutti